Suona la prima campanella in Puglia, nella regione tornano sui banchi di scuola in tutto 540.000 studenti, 221.000 fra l'area metropolitana di Bari e la BAT. Primo anno dopo la pandemia, senza restrizioni anti-Covid, cadono le principali misure introdotte negli ultimi tre anni per contenere i contagi negli istituti. Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, non bisognerà distanziare i banchi e non si ricorrerà alla didattica a distanza. Saranno però adottate misure speciali per proteggere i fragili da valutare caso per caso. Non mancano i malumori, pochi bidelli e il nodo dei precari anche alla media e primaria. I sindacati hanno segnalato un inizio dell'anno turbolento con 8.559 supplenti chiamati in cattedra, proteste per gli errori nelle graduatorie delle supplenze e oltre 3.000 unità in meno nel personale ATA a causa dello stop nazionale all'organico Covid. Problemi questi che hanno spinto la maggior parte dei presidi baresi a posticipare l'avvio di mensa e trasporto scolastico agli inizi di ottobre.